benvenuti amici oggi parliamo di un argomento che ci riguarda tutti ma che a volte ci mette un po in confusione avete mai letto le etichette nutrizionale dei prodotti al supermercato e vi siete sentiti come se stesse decifrando un messaggio in codice tranquilli oggi cercheremo di far chiarezza su cosa sono davvero queste etichette e come possono aiutarci a mangiare meglio vi parlerò dei due principali tipi di etichette che troverete nei prossimi tempi sugli alimenti che troverete sugli scaffali al supermercato e in fondo vi dirò una regola fondamentale e molto semplice per scegliere in maniera consapevole quindi sigla sappiamo tutti che l'obesità è un problema crescente a livello globale con oltre 650 milioni di adulti e 124 milioni di bambini colpiti in europa il 58 per cento degli adulti e il 24 per cento dei bambini sono in sovrappeso obesi ma la buona notizia è che la chiave per affrontare questo problema si trova proprio nei numeri e nelle percentuali sulle etichette alimentari ma come si leggono e soprattutto ci informano davvero su ciò che mangiamo o ci confondono ancora di più parliamo del nutri score il semaforo è un sistema a semaforo che troviamo in alcuni paesi europei e che ci viene proposto dall'europa immaginate di fare la spesa e vedere una bella confezione di parmigiano o olio d'oliva extravergine etichettata con bel semaforo rosso rosso direte voi ma secco si sano e infatti qui casca l'asino il nutri score classifica gli alimenti in base a un mix di parametri grassi saturi zuccheri sale che non sempre fanno giustizia ai nostri amati prodotti italiani vi faccio un esempio per tutti il parmigiano è ricco di proteine e calcio rischia di prendersi un semaforo rosso solo perché contiene grassi saturi e sale ma allora ci fidiamo o no di questo semaforo è un po come dire che la pizza fa male perché un po di mozzarella in più certo se mangiamo una pizza gigante tutti i giorni forse un po di attenzione la dovremmo avere ma una fetta ogni tanto non ha mai fatto male a nessuno giusto e qui entra in gioco l'importanza di sapere cosa mangiamo non solo di guardare un'etichetta colorata per questo l'italia fiera dei suoi prodotti come ad esempio il prosciutto di parma o l'olio extravergine d'oliva sta cercando di proporre un'alternativa al nutri score vediamola una di queste infatti è il nutri inform battery invece di vedere colori ci mostra quanta carica abbiamo consumato con ogni porzione di cibo cioè fornisce informazioni più specifiche sulla quantità di nutrienti consumati in relazione alla porzione di cibo da quindi informazioni concrete su grassi zuccheri e sale rispetto a quello che dovrebbe essere l'apporto quotidiano senza demonizzare un prodotto solo perché ha un pizzico di sale in più o ha un po più di grassi ora lanciamo una sfida per la prossima volta che andate a fare la spesa provate a guardare non solo il colore del semaforo ma anche la lista degli ingredienti e la quantità reale di zucchero sali e grassi scoprirete che molti prodotti che pensiamo siano cattivi possono in realtà essere gustati con moderazione senza sensi di colpa se consumati ovviamente con consapevolezza l'argomento che stiamo trattando non è sicuramente dei più semplici ma per semplificarvi la vita al massimo vi ricordo una regola che vi dovete stampare bene in testa la regola dei cinque ingredienti cioè quando andate a far la spesa c'è una regolina semplicissima per cui se nell'etichetta ci sono più di cinque ingredienti semplicemente l'alimento lo dovete lasciare sullo scaffale perché perché dovete privilegiare i cibi vivi i cibi veri rispetto ai cibi che vengono confezionati prodotti dalla grande industria alimentare e addizionate di tante sostanze come ad esempio zuccheri raffinati oli di scarso valore nutrizionale e grassi che sicuramente non danno un apporto nutrizionale corretto semplicemente danno solo calorie ed altri additivi che non servono per la vostra salute anzi la peggiorano quindi ricapitolando le etichette nutrizionali sono uno strumento utile ma dobbiamo imparare a leggerle con attenzione non fermiamoci al colore o al punteggio ma guardiamo cosa c'è davvero dentro ciò che mangiamo e soprattutto ricordatevi che l'equilibrio è sempre la chiave avete un dubbio ricordatevi la regola dei cinque ingredienti sull'etichetta se vi è piaciuto questo video mettete un bel like iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulla nostra opera di divulgazione scientifica in parole semplici ciao alla prossima